Bentornati! Oggi vediamo la maglia del Benfica, la prima maglia del Benfica per la stagione 22-23 in edizione FUN, la maglia dedicata ai tifosi. La maglia Home Adidas Benfica 22-23 presenta un design pulito in rosso con accenti bianchi sotto forma di tre strisce, polsini delle maniche e colletto. In aggiunta a Joe ci sono sottili gessati sul davanti e sulle maniche. Questa maglia Adidas rimane fedele alla tradizione calcistica della maglia di casa, con righe sottili ispirate al ponte che caratterizza lo skyline di Lisbona fin dal 1966. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed è solo una delle soluzioni di Adidas per la lotta contro l'inquilamento causato dai rifiuti plastici. Questa maglia è molto bella, fatta veramente molto bene, nella mia personalissima classifica questa prende tre stelle. Mi piace il contrasto rosso e bianco, mi piacciono le patch, è una maglia molto comoda e peraltro al costo che vedete qui sopra è veramente un'occasione da non farsi sfuggire. Vi ricordo peraltro che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora prima di lasciarvi la parte finale, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Spero che possiate anche lasciarvi un commento per dirmi cosa ne pensate della maglia e quale altre maglie vorrete vedere in futuro. Per oggi è tutto, mi raccomando continuate a vedere il video per vedere le misure, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.